1, 2, 3, via! Correre, correre all'aria aperta, divertendosi grazie ad una attività capace di valorizzare il gruppo. Diventimento educativo quello pensato da Atletica, Silca, Conegliano per la 21 del Cima School Edition, che ha radunato nella cittadina della Pedemontana Trevigiana i ragazzi di ben nove istituti del territorio, tra primari e medie e superiori, impegnati a contendersi il titolo di campione comunale della staffetta scolastica, non in base ad una distanza, ma ad un tempo, 21 minuti, durante il quale percorrere la maggiore distanza possibile. Una vera e propria invasione di ragazzini e ragazzine, ben 1400, che hanno colorato di entusiasmo il cuore di Conegliano, Piazza Cima e Via 20 Settembre in particolare, per un momento di gioia collettiva estremamente apprezzato anche dalla comunità locale, nella esaltazione dello sport come strumento di crescita e condivisione. In evidenza, per quanto riguarda gli istituti, la Rodari, la Masette e la Mazzini per le primarie, la Cima per le medie e la Galilei per le superiori. Un grande grazie alle scuole che hanno aderito a questa iniziativa, perché in queste tre giornate dello sport bisognava che anche un'atletica sicca con Eliano, che da 40 anni fa sport, desse il suo segnale, e siamo riusciti a darlo per il terzo anno consecutivo, creando questa 21 del Cima come un momento ludico e anche un po' agonistico, perché abbiamo potuto premiare delle classi, dalla terza elementare alla seconda superiore, e tutti quanti adesso rientrano contenti di aver fatto veramente un po' di sport. Per questo dobbiamo ringraziare l'atletica sicca, che si adopera perché possa esistere questa giornata in via 20 settembre, una giornata amata non solo da tutta Conegliano, ma in particolar modo da chi abita in via 20 settembre, e vede i ragazzi riappropriarsi della propria città. Ci vorrebbero più giornate come questa, perché Conegliano ha bisogno dei nostri ragazzi, e vederli correre in centro è una cosa meravigliosa.